Vada raga, oggi siamo qui a fare un video e oggi sono di nuovo qui con le mie manie di masochismo, sapete perché? Penso che lo state già vedendo, penso che lo state già vedendo, ma raga, prima di iniziare voglio ricordarvi alcune cose fondamentali, raga, alcune cose fondamentali. Allora, cos'è che vi devo dire? Allora, quello che vi devo dire è che vi dovete assolutamente ricordare di lasciare like, commentare, condividere e iscrivetevi. Mi raccomando, raga, arriviamo ai 10 like, mi fareste un grande favore, condividete più che potete, commentate, commentate scrivendo, dato che faremo la challenge, prova a non spaventarti come potete ben vedere. Commentate scrivendo a che minutaggio avete perso, sempre se avete perso, se non avete perso scrivete anche quello. Niente raga, l'altro video dell'ultima volta è questo qua sotto, che durava 3 minuti e 58, questo dura addirittura 5 minuti e 20, ma di cosa stiamo parlando, raga? Io ho paura che stavolta perdo, raga, io ho paura. Raga, guardate questo, invece sopra a testa si è scritto non guardarli da solo. Ma raga, ma sapete cosa? A me più che altro li jumpscare, raga, li jumpscare mi mettono una fifa assurda, raga. Raga, mi devo ricordare, è solo un video, è solo un video. Regole, primo spegni la luce, ma che spegni la luce? Ma io la lascio così, vabbè raga, io la luce prima di tutto non posso spegnerla perché ovviamente devo, come dire, devo fare il video. Allora adesso sono solo immagini, sono immagini non molto belle, però sono solo immagini, raga. Immagini non mi creano particolarmente effetto. Mmm, questo è già più aiuto. Ehm, cos'è che volevo dire, raga? Non mi ricordo. Vabbè, comunque io farò in modo comunque di non stoppare. Il mio obiettivo è non stoppare. Aspettate un attimo che metto la qualità magari un po' più... Elevata, no vabbè, vabbè va bene anche così, dai. Va bene anche così, ce la facciamo andare bene. Secondo livello, Kif Horror. Mmm. Ma per adesso, raga, direi, 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 direi. Ok, 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 ok. Ma raga, ma... Scusate, ma... Ah, ecco, perché c'avevo le impostazioni tutto il tempo, l'asso opera, c'è. Terzo livello, video horror e si comincia. Io, raga, continuo così perché se no mi cago addosso lo so già. Pepe, pepe, e pepe, e pepe, e pepe, e vaffanculo. Ma cos'è? Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo No no no, non mi fa paura Vaffanculo Per adesso raga, ma a me più che altro raga di jumpscare E questo raga, di jumpscare a me E' quello il fatto, sti cazzo di jumpscare No no no, questi video raga, sti video di merda Sti video di merda con sti jumpscare Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo Vaffanculo, vaffanculo No no no, sei proprio una merda Sei proprio uno stronzo Vaffanculo, vaffanculo Vaffanculo, vaffanculo Vaffanculo, vaffanculo Vabbè per ora tocca a posto, a posto No raga ma a volte i video non sono manco così terribili E che io spesso me li immagino peggio di quello che sono poi Perché il video dell'ultima volta, ve lo ricordate? Quello era... Vaffanculo, vaffanculo Ma questo video era facile Cioè se era questo, ciao ciao Niente jumpscare, niente robe Cazzo guarda Vaffanculo, vaffanculo 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 Oh no 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 niente jumpscare Niente jumpscare, niente jumpscare, niente jumpscare, niente jumpscare, niente jumpscare Niente jumpscare Niente jumpscare Ma siamo seri Ma che vuoi fare Vabbè raga Direi che è andata più che bene Questa volta Fatemi sapere se voi invece avete stoppato Fatemi sapere il minutaggio Se non avete stoppato Fatemelo sapere comunque Iscrivetevi Lasciate like, condividete, commentate E niente Noi comunque come sempre Ci vediamo al prossimo video Ricordatevi di seguirmi su Instagram Su TikTok, TikTok molto importante Che li siamo veramente in tanti E niente raga direi che per oggi è tutto Bella raga